Allora, una bella partita, a tratti più loro che noi, però noi stavamo messi bene in mezzo al campo, il nuovo mister Stellone ha messo una buonissima formazione, i ragazzi erano quadrati, lo Juve Stabia, giustamente con il gol che ha preso dopo pochi minuti, ha avuto una reazione abbastanza forte, però una bellissima partita e soprattutto abbiamo rivisto tanti giocatori in forma, attaccamento alla maglia e quello che piace a noi tifosi, il temperamento della scuola. Diningovic, come sempre, sappiamo tutti quanti che è un giocatore forte, lui purtroppo ha pagato alcune situazioni perché è un bravissimo ragazzo, però ogni tanto aveva dei problemi forse con l'allenatore che è andato via, l'ha adoperato, il nuovo allenatore l'ha adoperato benissimo, è entrato nel secondo tempo, ha fatto un grande gol perché lui è un grande campione. L'Ascoli alla Spezia, siccome c'è una grande rosa con i nuovi arrivati, sarà una partita molto tattica, anche fisica e l'Ascoli farà sicuramente risultato.